Medicus ha consegnato al cardinale Gualtiero Bassetti e all'architetto Guendalina Salimè il premio gentile da Foligno 2023. Nel corso della seconda giornata di Medicus, alla Sala dei Notari a Perugia, si è parlato di anzianità vista come opportunità di sviluppo socio-economico dei borghi dell'Umbria, di architettura, di fede vecchiaia. L'anziano non è un peso ma un'opportunità per i borghi Umbri, per una qualità di vita migliore per gli anziani e come opportunità lavorativa per giovani, ha detto Caterina Lucangeli presentando l'evento. E Moreno Finamonti, presidente di Sofia Umbria Marche, ha ricordato i tre obiettivi del premio gentile da Foligno. Far conoscere il più grande medico del Medioevo, avvicinare la popolazione ai medici e i medici alla popolazione in un momento molto problematico per la sanità pubblica. Ragionare sull'invecchiamento della popolazione, sulle conseguenti politiche da attuare per garantire dignità agli anziani, in particolare la logistica. Per Finamonti l'invecchiamento è il fenomeno più grande dell'oggi. In Umbria abbiamo 223 over 65 ogni 100 bambini fino a 14 anni e questo grazie alla scienza per l'aumento della vita media. Ma si deve vivere bene, dignitosamente. Bisogna avere il coraggio di cambiare l'organizzazione socio-sanitaria regionale per affrontare la sfida del futuro. La strada da tracciare, afferma Silvio Ranieri, segretario generale di Anciumbria, è quella della nuova programmazione di servizi per i borghi per coinvolgere i giovani con immobili a costi più bassi o in progetti di co-housing con gli anziani, promuovere l'insediamento di start-up e aziende attraverso interventi integrati a 360 gradi che mettano insieme tutte le esigenze e diano risposte. Risposte che la Regione Umbria ha provato a fornire con diversi progetti di integrazione e inclusione illustrati da Cristiana Corritoro, dirigente Servizio Programmazione Generale e Negoziata della Regione Umbria, che consistono nel rafforzare i servizi sanitari di prossimità, agevolare la mobilità, potenziare l'istruzione per mantenervi le famiglie, quindi le farmacie rurali, l'infermiere di continuità e l'assistenza domiciliare, la telemedicina, le case di comunità operative H24, il trasporto sociale e l'operatore di quartiere per commissioni come ritiro pacchi e disbrigo pratiche, ritiro medicinali, assistenza telefonica e le attività sociali per far incontrare giovani anziani.